Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sono NickWatch e bentornati Oggi siamo con il mio microfono e ovviamente siamo su una tier list Una nuova serie di questo campo, ovvero Questi cartoni animati saranno messi in varie categorie Quindi, iniziamo subito Adventure Time Adventure Time è molto bellino, però Aspetta che vorrei... Come si dilleva? Perché ho messo con la traduzione di merda, ecco Inglese Facciamo Adventure Time A River Bears C Perché mi hanno sputtato Goku Ben 10, questo è quello classico, quindi SS William Mendy, S Chounder A Clarence A Kwechike, Mukepollo SS SS Non l'ho mai visto Che è sta cosa? Ah, Flapjack! No, Flapjack è S sicuramente Eh, Faster Diciamo, va bene questo Gumball D D Johnny Bravo S Porco Dio S King of Next Door Non l'ho mai visto Camp Loslo Non l'ho mai visto Kwechikeyo A Parpuff Girl, questo è quello vecchio SS Regular Show B Samurai Jack Non l'ho mai visto Stevie Universe A Team Titans Go D Team Titans normale SS Uncle Grandpa Ah Bene, questa è la mia tier list Ok, ora ho preso un altro pezzo di pubblico e da Nickwatch passa e chiudo Che è la mia tier list